Ma guardi la questione intanto è una questione nazionale perché l'Europa chiede al governo italiano di dire entro due mesi se ci sono delle ragioni per le quali bisognerebbe mantenere la legge che vieta l'utilizzo del latte in polvere nella produzione dei nostri formaggi. Significa che comunque in teoria l'Unione Europea dà al governo italiano la possibilità di difendersi da questa norma. Ma vedremo se una volta tanto Renzi si schiererà dalla parte dei nostri agricoltori e dalla parte della nostra identità e non farà l'ennesimo inchino alla schettino che continua a fare presso le istituzioni europee.